Servizi funebri cavesi offre un servizio di onoranze funebri completo e su misura per ogni tipo di esigenza. Siamo a Cava dei Tirreni in corso Mazzini numero 224. Dopo lunghe settimane di stop, sono ripresi i lavori per la messa in sicurezza di Via Rotolo, l'importante arteria chiusa al transito dall'8 dicembre 2022 a causa di una frana. Come annunciato dal vice sindaco Nunzio Senatore, la ditta nei prossimi giorni completerà l'esecuzione dei pali a sostegno della scarpata. Successivamente, dopo la maturazione del calcestruzzo e le relative prove di carico, si procederà alla realizzazione del muro finale. Nelle scorse settimane, il sindaco Vincenzo Servalli e il presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri erano stati sul posto per un sopralluogo, con l'obiettivo di trovare una soluzione per accelerare i lavori. Il perdurare della chiusura al transito veicolare di Via Rotolo sta arrecando notevoli disagi ai residenti delle frazioni di Rotolo, Dupino, Santi Quarante e Maddalena, che ormai da un anno e mezzo sono costretti da un lungo percorso alternativo per raggiungere il centro di Cava dei Tirreni. I lavori, cominciati ad inizio gennaio, sono stati fermi al palo per più di due mesi per una serie di problematiche. Ora l'auspicio dei residenti della zona è che l'intervento possa essere ultimato in tempi brevi.